Musica Benvenuti al telegiornale quotidiano sul mondo dei motori di ruote in pista. Giovedì 16 luglio 2015. Jeep. Lo scorso fine settimana a Montelieu-Versieux in Francia si è svolta la seconda edizione del raduno internazionale Jeep Camp con quasi 2000 partecipanti provenienti da 25 nazioni e circa 350 vetture Jeep iscritte. Correntemente con il moto In Adventure We Trust, l'evento francese è stato organizzato da Jeep Home Group, l'unico club ufficiale gestito dal marchio e già attivo in 17 paesi dell'area EMEA. Durante la tre giorni, in una cornice mozzafiato, i partecipanti hanno avuto la possibilità di vivere esperienze di guida off-road estrema, affrontare quattro percorsi appositamente studiati per l'occasione e mettere alla prova le proprie Jeep su terreni più diversi. Maserati. La Casa Automobilistica di Modena ha ufficializzato il suo ritorno in India, dove farà capo alla divisione locale di FCA. Nel terzo trimestre aprirà tre concessionari a New Delhi, Bangalore e Mumbai. Per tutte le sedi sono previste anche centri di assistenza Maserati, perfettamente in linea con gli standard globali della Casa del Tridente. Il capo di Maserati in India sarà Bojan Jankulovski e il marchio prevede vendite a doppia cifra. Porsche. Porsche varia il piano Fit for the Future, che prevede l'investimento di 1,1 miliardi di euro per rafforzare la produzione nei siti tedeschi e per salvaguardare i suoi lavoratori fino al 2020. In particolare, la Casa si concentrerà sull'impianto centrale di Duffenhausen, dove sarà creata una nuova linea di assemblaggio, una nuova unità motori e da agosto 2016 sarà prodotta anche la nuova Porsche Cayman. A domani per altre news. Grazie a tutti.